Ciao 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 amiche mie, eccomi qui, sono qui per girare un video, il video mensile, il mio incontro mensile con le mie tre collaborazioniste, diciamola così, non so come dire, che sarebbero Lu, rubrica di Lu Channel, Donatella, del canale Lollipop, Franci, del canale Beauty Secret Franci, ed eventualmente anche Jess, la mia simpatica amica Jess, giovanissima e simpaticissima, che appunto è Bucadit 3, visto non ho detto dry, 3, diario di un'elettrice svampita, non so se parteciperò. Allora, mi scuso per il ritardo ragazzi, ma sono dei giorni in cui mi sto sentendo proprio non bene. Allora, quindi ho rimandato, rimandato, rimandato. Allora, la canzone del momento è una canzone del 1999, si chiama The Bad Touch, è un gruppo americano, non so adesso ve la intono un po'. Sono dei ragazzi, appunto, americani, travestiti da scimmie, che ballano a Parigi e catturano nel video poi delle persone, insomma, è molto divertente, un po' troppe allusioni sessuali, ma io tanto l'inglese non lo capisco, quindi mi faccio quattro risate. È molto arricchiabile, mi ricorda il periodo in cui ero incinta di mio figlio Sven, quindi 15 anni fa, e niente, l'ho risentita per caso, mi è venuta la nostalgia di questa canzone, ve lo metto nell'info box il link. Poi, il profumo del mese, il profumo del mese, ve lo faccio vedere, ce l'ho qui nella mia borsettina, me lo tengo sempre in borsa, ed è un profumo della Pezvai, P2, della Limited Edition Wild Me Up, eccolo qua, sono 10 millilitri da borsetta, e, ah, un buon profumo di estate, di cocco, di, non lo so, estivo, un profumo fresco estivo, fruttato, mettiamolo via, poi, accessori del mese, allora, accessori del mese, anche quelli li ho lasciati sopra, perché prima il video l'avevo iniziato da sopra, vi faccio vedere questi, ho comprato tre nuovi paia di orecchini da Bijou Brigitte, e anche questi, vedete, che riflettono come specchio, però, sono molto, molto, ecco, così li vedete bene, sono molto cadini, sembrano quasi degli scudi con questi fiorellini, molto leggeri, in metallo, insomma, comunque orecchini, perché io amo orecchini, come ben sapete. Relazione del mese, niente, come al solito, tutto normale, mio marito, che comunque sia, è sempre il mio supporto, che mi sta a fianco, e mi sopporta nei momenti di, nei momenti di abbattimento. Relazione, abbiamo detto, cibo preferito, cibo preferito, niente di particolare, devo dire la verità, niente che mi abbia... Ah sì, l'anguria, in questo periodo sto mangiando moltissima anguria, o cocomero, qual dir si voglia, o uova melo, oppure vassar melone, come lo chiamano qua, molto, molto buono, dissetante, rinfrescante, ma siccome io in questo periodo ho sempre mal di stomaco, diciamo che non è che mi sia molto facile qualsiasi cosa, ma comunque il melone è digeribilissimo, non è come bersi una bevanda zuccherata, fresca, è molto buono. Quindi diciamo proprio il... no, melone, scusate, il cocomero, o melone lo chiamano qua. Poi, cibo preferito, nuove scoperte. Allora, nuove scoperte, sicuramente, indubbiamente, inderogabilmente, questa ditta di cosmetici che si chiama Makeup Revolution, questa meravigliosa palette, questa linea della Makeup Revolution, che fa, praticamente, dupe, ha fatto il dupe della Too Faced, della Chocolate Bar, e ha fatto anche i dupe che si chiamano Iconics 1, 2, 3, delle Naked, della Naked 1, 2, 3, e io me li sono presi, ed è stata una scoperta grandiosa, e questo, grazie a Paola, non più solo bio. Ciao Paola, grazie di avervi citata nel tuo video, tra le persone che segui, anch'io ti seguo con grande affetto, e con grandissimo interesse, i tuoi video sono sempre molto interessanti, e quindi, chi non la conosce, di corsa, sul canale di Paola, non più solo bio. Quindi, scoperta del mese, questi prodotti della Makeup Revolution, che io ho comprato, altra scoperta del mese, sul sito machiaia.com, va bene, ve lo consiglio, perché è spedizione veloce, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, scarpe, scarpe del mese, nulla, perché non ho comprato scarpe, quindi, niente di che, non vi posso dire, sempre le solite, capelli. Allora, verso, mi sa, il 20 di luglio, o il 10, non mi ricordo, sono andata a fare un taglio, avevo fatto anche un video, un taglio per scalarmi un po' i capelli, perché a me i capelli pari, mi stanno tanto di, su di me, di, non lo so, mi stanno male, sono abituata allo scalato, anche perché, ricordate, che io sono una ragazza anni 80, quindi negli anni 80 i tagli erano iper scalati, scalatissimi, e io più vedo i tagli pari su di me, più mi vedo strana. Ho detto alla ragazza di scalarmeli, e me l'ha scalati, praticamente qua sotto, tanto così. Cioè, io volevo una scalatura, almeno a metà capello, qua e qui anche sfilzati, gliel'ho detto. Si vede che il mio tedesco non è stato abbastanza chiaro, non lo so, scherzo, comunque non mi hanno capita, ed ecco qua il risultato. Adesso aspetto ancora un po' che crescano, e poi quando la frangia inizierà a essere troppo lunga, andrò a fare un'altra scalatura. Ma ho sempre paura, perché poi escono sempre diversi da come io me li sono immaginati. E vabbè, pazienza. Allora, bevande del mese, acqua, perché purtroppo con il mio stomaco non posso permettermi altro. Applicazioni del mese. Allora, applicazioni del mese sto usando moltissimo, crash, candy, candy crash, quel giocarellino con tutte quelle caramelline che scendono, che è anche un po' noiosello, però magari quando non riesco a dormire la notte ci gioco. E ultimamente sono riuscita anche a superare il livello 23, che era ostico. Poi, cover. Cover del mese niente, sempre le solite cover, perché sto anche accarezzando il desiderio di regalarmi per il mio compleanno, tra pochi giorni, fra due settimane, di regalarmi io da sola un nuovo telefonino. Vorrei veramente il Samsung S5, io ho il Samsung S3, perché ne ho sentito parlare anche bene in varie recensioni, oppure il Note Dry, il Note 3, il Note praticamente, però non lo so, il Note 3 adesso deve uscire il Note 4, quindi non lo so, vedremo insomma. Comunque cover, niente! Poi, smalto, smalto del mese ce ne sono due. Allora, uno che l'ho rivalutato, che all'inizio non mi era piaciuto per niente, il cupcake di Kiko, quello numero, quello rosa, quello rosino, con tutti quei piccoli granellini colorati, che sembrano appunto le granelle che si mettono appunto sui cupcake, no? Su quelle... E poi, quello che porto adesso, che però mi si è, vedete, mi si è un po' già rovinato, che è della Essie, della Essie il Cincigli. Cincigli è bellissimo, e ne parlava ultimamente la mitica Lucy Medici, ciao Lucy, in un video che aveva fatto in collaborazione con Miss Penny, ed era i dieci rossetti che ti vorresti portare via in caso che sceglieressi come, diciamo, gli unici, e lei ha nominato appunto questo. Allora, siccome io lo avevo già da qualche tempo, mi è venuta voglia di prenderlo e di rimettermelo. È molto, molto bello come colore. Adesso da me è tutto sbeccato, perché ho fatto un po' di servizi di casa, e ovviamente l'ho messo tre giorni fa, e si è un po' sbeccato, già, purtroppo. Ma comunque. Poi, parola del mese, parola del mese, boh, non lo so, non saprei cosa dire. Disoccupazione, avendo io perso il lavoro, finito il mio lavoro, direi questo. Poi, doccia time. Doccia time, io ho un problema con i miei figli, siccome i miei prodotti per doccia sono tutti lasciati lì, al bagno, appoggiati sulla mensola, vengono letteralmente presi di mira, e poi non è che un flacone, così ci fanno una doccia. Ma vi rendete conto? Sono matti. Soprattutto il più grande, proprio se li spreme a livelli pazzeschi. Io avevo il Cocosnut della Trickle Moon, quel flaconcione che vi avrò fatto anche vedere. Era a metà, ritorno, in una giornata l'ha finito. Cioè, roba da matti, vabbè. Spero che anche a voi succedano queste cose con i figli adolescenti, che non capitino solo a me, della serie Val Comune Mezzo Gaudio, amiche. Poi, figura di merda. Figura di merda la farò domani, dopodomani della mia dottoressa, perché sono ormai un anno che prendo appuntamenti per fare gastroscopie e poi scappo. Gastroscopie e la mia condizione di salute peggiora sempre, quindi farò una figura di merda perché questa diceva se stai male perché non ci vai? E io sono fifona, ragazze, sono fifona. Infatti, nei commenti vorrei se qualcuno di voi ha affrontato queste visite, io le ho già fatte due, che mi dicesse qualcosa, ho il terrore, non tanto della visita in sé quanto di quello che mi possono dire dopo aver fatto la visita, di quello che hanno visto. Vabbè. Foto, allora, foto del mese, aspettate, foto del mese ho chiamato Lars che è venuto con il suo, bene, inquadra dal centro, con il suo telefonino. Questa è una foto che io ho pubblicato dove Lars? È al museo di Roma e di Colonia. Al museo della civiltà romano-germanica di Colonia. Ci siamo stati insieme, abbiamo fatto anche un vlog e questo mascherone ti ricordi Lars, chi è? È il rino di Colonia. Chi è? Il capo del rino di Colonia. Il capo del rino di Colonia, quasi, no, il dio del rino. I romani avevano la passione di personificare i fiumi, cioè di antropomorfizzare i fiumi e facendo questi mascheroni. Ecco, e questo è il rino. Grazie Lars della tua partecipazione e del tuo aiuto, del tuo appoggio. Ciao! Ah, il libro del mese, ho invertito le domande ma non fa niente, è questo libro qui di Fizek, di Sebastian Fizek. Ne ho parlato in una recensione perché è un libro che mi è piaciuto tantissimo! Quindi, non ne parlerò più oltre ma vi dirò che veramente ne vale la pena di andarvelo a leggere il sonnambulo e se vi piacciono i libri di Suspans questo fa per voi. Poi, il film del mese l'ho saltato? Ecco, vedete che sono veramente rimbambita. Adesso mi è venuto in mente per il libro, per il film. Allora, film del mese, non ho visto un film nuovo ma un film stravecchio del 1968 quando io avevo un anno che dolce, che piccola, è appunto un film di Dino Risi che si intitola Straziami ma di baci saziami. Siccome io ho la passione di questa canzone canto sempre Straziami ma di baci saziami per pietà per pietà sorridimi. Allora, stavo andando a cercare su YouTube la canzone invece mi è uscito fuori il film di Dino Risi tutto per intero che metterò nell'info box e mi è venuta la voglia di vedermelo. Personaggi, il grandissimo Manfredi, Nino Manfredi e il altrettanto grandissimo Ugo Tognazzi e ve lo consiglio perché la tipica commedia all'italiana è molto molto carina, molto divertente, eccetera, eccetera, vestiti del mese vestiti del mese ve lo faccio vedere subito è questa magliettina questa camicettina che ho comprato bellina tanto guardate che carino il dettaglio sembra un po' quasi una stampa indiana con questa scollatura scusate il mega brufolo ma altro non è che una zanzara che mi ha massacrato io poi di notte mi faccio i buchi proprio mi creo dei buchi con le zanzare che poi mi rimangono nei secoli dei secoli ancora fra millenni si vedranno questi buchi nel video e niente questa magliettina l'ho pagata 14 euro carinissima fresca è molto mi è piaciuta molto insomma un acquisto che ho fatto che mi è molto piaciuto il commento più bello allora il commento più bello questa volta ne ho avuti tanti ma questa volta anzi vi prego lasciate sempre un commentino se vedete i miei video perché mi riempite il cuore di gioia e io rispondo sempre 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 a meno che non lo vedo e allora in quel caso ma non non è mai una cosa che faccio perché io faccio i video proprio per questi commenti quindi allora il commento più bello me l'ha fatto una ragazza che ha un canale qui su youtube e io vi prego di andarvi a iscrivere a guardare i suoi video e iscrivervi perché è una ragazza molto carina fa dei video molto carini divertenti simpatici ha fatto anche dei vlog viaggio in italia lei vive a dublino è italiana ma vive a dublino quindi con me ha in comune anche questo fatto di vivere all'estero e mi ha detto che aveva guardato un mio video per lei era abbastanza era tesa perché aveva non so un impegno una qualcosa e si era vista il mio video per rilassarsi e questo è stato per me un enorme complimento ti ringrazio ti mando un bacione e ti seguo molto volentieri anch'io Mel Mel Ritz scriverò qui nell'info box anche il link del suo canale e vi prego di andarla a vedere iscritti oh iscritti che dolci allora iscritti sono 600 e qualcosa 600 infatti c'è lì aperto il giveaway per i 600 iscritti vi prego quindi se non ci siete ancora andati di iscrivervi perché ci sono dei premi abbastanza carinucci caruccelli allora stavamo parlando degli iscritti mi sa che ce ne sono circa 629 630 ma siccome da me fluttuano uno ne viene due ne vanno due ne vengono uno ne va quindi non si sa mai youtube più seguita youtuber più seguita ultimamente sto seguendo come novità diciamo che è una persona che mi piace molto l'ho già detto paola non più solo bio ma youtube più seguita poi sono sempre le persone che in genere seguo continuo a seguire con affetto diciamo quindi sempre le solite persone no antonella poi chi c'è lu alle volte non commento perché ultimamente non ho avuto tanto tempo per commentare un po' per le mie letture un po' per la mia salute però vi seguo sempre amiche poi cosa più bella e cosa più brutta cosa più bella aver fatto il video con mio marito mi ha fatto mi ha riempito di gioia perché è stato per me molto bello coinvolgere mio marito in questa in questa piccola mia passione che è quella di fare i video ho detto vuoi fare un video con me ha detto di sì e prossimamente fra qualche tempo fra un mese o due ci sono altri video di coppia sicuramente lo voglio rifare con lui e dicendo di parlare un po' più forte perché ho visto che non si sentiva quasi niente perché lui parla sempre molto piano a differenza di me cosa più brutta purtroppo che non sto tanto bene con la salute in più il fatto che il 4 luglio mi è finito definitivamente il lavoro quindi mi sento un po' diciamo un po' posso dirla la romana scoglionata sto già mandando candidature ma chissà speriamo bene se candidature le mandate io ho 47 anni fra due settimane e nella mia esperienza di vita lunga e di lavoro ho mandato sempre tante tante candidature non hanno mai portato a niente i lavori si trovano per passaparola quando qualcuno ti dice vuoi venire c'è un post eccetera altrimenti ragazze mie con le candidature io non ho mai avuto niente quindi purtroppo è così allora una sola parola per questo mese la sola parola per questo mese è luglio appeso ad uno scoglio vedrai non tornerai ragazze vi saluto metterò nell'info box i canali delle persone di cui ho parlato i siti che ho nominato le canzoni e il film che ho nominato vi consiglio di andare a visitare il canale di Mailbraith scusate lo pronuncio male ma vi metterò il link e per il resto vi saluto scusate 17 minuti mi sono dilungata ciao alla prossima